Il giudizio sull'operato della sua amministrazione lo lascia ai cittadini, ma il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodisputo, non nasconde la soddisfazione per gli obiettivi raggiunti in questi primi 100 giorni di governo, caratterizzati da una questione in particolare, quella relativa ai rifiuti. In conferenza stampa il sindaco ha ripercorso le tappe che hanno portato il comune di Margherita di Savoia all'uscita da SIA con il conseguente passaggio alla ditta San Galli delle attività di raccolta dei rifiuti e dei 42 lavoratori già impegnati con la precedente azienda. Ci siamo trovati già al quarto giorno, quinto giorno con dei rifiuti che non venivano più raccolti, una situazione finanziaria già nota perché è stata presentata una proposta di riequilibrio personale dimezzato, difficoltà che possono essere comuni a tanti altri enti locali, che però in un periodo estivo si triplica proprio questa difficoltà operativa. Però nonostante questo abbiamo determinato una scelta per il servizio dell'altezza urbana che è stato dichiarato da quello che si sente in giro soddisfacente e nel giro di tre mesi abbiamo determinato non solo il nuovo affidamento alla società per la raccolta, abbiamo passato il passaggio dei 40 dipendenti, anzi 42 unità secondo l'intesa raggiunta con il consorzio e l'8 ottobre i nostri lavoratori di Margherita hanno ripreso regolarmente l'attività lavorativa senza che nessuno ha perso il lavoro. Emergenza rifiuti ma non solo. Il sindaco ha indicato nelle attività relative al miglioramento delle condizioni della sicurezza, alla promozione del turismo e al recupero delle periferie, gli altri obiettivi raggiunti, fissando allo stesso tempo le prossime priorità. Nei primi 100 giorni avevamo garantito rifiuti, sicurezza e scuola, l'abbiamo fatto. Adesso garantiamo un impegno forte per le attività produttive finalizzate all'occupazione. Posso dire che gli obiettivi principali rimane il porto turistico, rimane l'area dell'ex-cral, i suoli che abbiamo ricevuto dalla FinTech, circa 3.000 m2 da promuovere per iniziative e attività occupazionali. Quindi questi sono due obiettivi principali. Poi ovviamente questo riteniamo entro l'anno di avere già degli studi di fattibilità e quindi avere delle proposte serie per poter procedere poi in senso positivo per l'occupazione. Grazie a tutti.